ciao a tutti e tutti oggi siamo qui in un video in cui userò questi miei fantastici trucchi per... ma non sono il mio canale... ma che che... ehi venga ciao ciao ecco allora in questo video sofia questa tipaccia qui mi truccherà e non è una bella cosa perché perché si sarà una cosa abbastanza difficile da sopportare per farti capire cosa sopportiamo noi donne ogni giorno si bellissime allora veico avevo già paura iniziamo con i capelli fondotini bello ce l'ho pure leggero quindi ma si esageriamo oggi rendimi più bello più bella perché mi brucia ragazzi con il fantastico pennellino noi andiamo a sfumare questo... benvenuti sul canale di Clio Makeup ok adorabile come vedete la sua pelle in questo momento anche un po' sulla barba perché voglio dire ecco insomma ovviamente una donna con la barba decaduto tutto molto easy e ora fard non è farlo stavo scorsando cipria per opacizzare il fondotinta cipro la fermata di roma nella metro un po' sul collo per non lasciare lo stacco sarà sicuramente una bellissima ragazza adesso passiamo alle cose più divertenti più trash diciamo esattamente molto trash vado col dito vado col dito cosa fai con il dito? allora iniziamo con un giallo, oro oro vai di oro chiudi chiudi ah devo chiudere gli occhi vabbè si vede oro o bianco? blu o nero? ecco un po' di blu dall'altra parte oh si apposta un po' di blu brillantinato che bello sarò perfetta tutti i ragazzi mi verranno dietro anche di qua allora adorabile adorabile sarà una bella ragazza immancabile eyeliner con facciamo un'aletta tipo qua così un po' un'aletta guarda guarda vabbè cos'è questa cosa? è freddo ha scoperto l'america nel frattempo ti sei sbavato tutto perché hai strizzato l'occhio ma sei bellissima uguale vabbè raga se non bello lo sei bella bella scusate ti ricordo bella dopo di che abbiamo il mascara ovvio si è bellissimo allora devi guardare in basso ah si ok ok il palimento guarda madonna raga che schifo fantastica di là adorabile lo apro nuovo solo per lui mmm cosa serve blush che cazzo è il blush dici cos'è il blush come uno splash tipo una cosa che pum ti fa qualcosa beh dove 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 lo mettiamo secondo te se un trucco dove sul culo la faccia ma a quale punto della faccia tutta ne lo mettiamo su tutta la faccia facciamo un personaggio trash l'hai detto tu no 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 fai così come? si fa così no allora si mette così ok? aspetta te lo devo riprendere ahhh perchè ti vuoi evidenziare lo zigoma bene еты mmmh sexy mmmh quanto ha qui questi occhi ma li mi ha bacconi no guarda, no, no, ok, tocco finale, fantastico, meraviglioso, adorabile, rossetto rosso, no raga che schifo, no raga, vado via, che schifo raga, io sono un clio make up comunque, trucco benissimo, devi vedere come, io sinceramente non vorrei guardarmi ora allo specchio, no, avrei tanta paura, aspetta, aspetta, non è ancora il momento di guardarmi, eh, ecco manca qualcosa, mancava qualcosa, c'ho un illuminante, che non so neanche io cosa vuol dire, si illumina qualcosa, ma noi lo utilizzeremo, si illumina l'immenso, ecco, aspetta, ragazzi, aspetta le sopracciglia, non so come sono le sopracciglia, mi sono scordata, sicuramente sarà una bellissima ragazza, eh, vediamo un bacino, è caduto il, eccolo, ok, abbiamo, la matita per le sopracciglia, è giusto, manca la matita, è certo, adorabile, eh, vorrei vedermi sicuramente, oh, sei pronto a vederti, ok, Alberico, si sta per vedere per la prima volta, truccato, truccato per un video molto easy, 3, 1, oh che c***o, cos'è sto schifo, che merda, ma sono trash, ehi, ciao, posso, ecco, aiuto, no, ecco, eccolo, top, ecco, ora dovrei tenertelo per tutta la vita, da me, tatuato, tatuato per sé, se questo video è piaciuto, lasciate un like qui sotto, cadi, cadi con me, è vero, come faccio sempre nei video, ecco, lo vedete su Facebook, su Twitter, su Francesco, che è uscito francesco, Giovanni, brava, Giovanni, yeah, fuck it, e ci vediamo al prossimo, vai, Dio, brava, La regia è di Marco del Torchio, il b- oh c***o, guarda, 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 salva, Sì